Allora, caricare ho caricato, 20 bancali a terra, dovevano essere 40, sono stati 38, questo loro hanno detto, quello ho caricato. Tutta roba leggerina, leggerina, di fatto sono barattoli di plastica. Vediamo un po' cosa dice. Secondo il camion qui, ma non è che sia precisissima sta pesa, siamo a ben, ho sbagliato strada, sì, confermo, confermo che ho sbagliato strada, dovevo girare dall'altra banda. Qui c'è una rotonda, ma però c'è anche l'autostrada, ma non c'è l'ingresso in autostrada di qua, peccato. Lezione numero uno, mai distrarsi, sempre stare concentrati su quello che si fa, altrimenti si fa imboiate come questa. Ci siamo intesi, vero? Allora, qui, attenzione al tram, anche se dovrebbe segnalarlo quando arriva. Non facciamo come i filmatini, che si vedono sul tubo ogni tanto. Allora, dicevo dei pesi. Secondo il camion sono in tutto la bellezza di 20 quintali. Praticamente ogni bancale pesa un quintale e qualche chilo. Cioè, non un quintale e qualche chilo, ogni bancale doppio, perché sono doppi. Non si potevano mettere cinghio, che è del genere, roba talmente piccola e spersa. Ho messo due fermacarichi, uno più in alto e uno più in basso. E basteranno quelli. Allora, qua, dice che per l'autostrada c'è da andare di qua. O non so, forse mi piaceva di più di là, però... Di qua dovrei esserci già passato, perché in quella ditta lì c'ero già stato un paio di volte quando avevo uno Stralis a caricare. Anche se l'altra volta era un giro, era durante un viaggio di ritorno, ma non erano 40 bancali. Erano due, tre, quattro bancali al massimo. Ops, pianenche. Non ho alzato le sospensioni, ma se lo facevo non sbagliavo. Devo avere fatto veramente il pelo per l'attraversamento pedonale rialzato. Adesso questo cerziamo, anche se mi sembra bassino, però... Però non mi fido. Ho già dato una grattata una volta sotto col serbatoio. E mi è bastato. E mi è bastato. Tangenziale, estro. Tangenziale, estro. Tangenziale, estro. faremo il giro dalla tangenziale est poi stasera a casa con il localizzatore satellitare controllo con quale giro era meglio fare se è di qua o di là probabilmente è di qua però poi ci do un piatto 3 ore 51 di guida stiamo alla prima area di servizio tanto vale fermarsi e fare la mezz'ora perché quanto d'ora ho già fatto prima area di servizio qui è tutta smontata il signore col SUV mi lascia entrare il signore di servizio Pagliare Pagliare 40 orari io sto facendo più dei 40 orari se sono lento il cantiere sta per finire e riprendiamo pure l'angertura ragazzi appoglia funziona o no? forse si siamo qua in tangenziale c'è anche un'area di servizio sì, no, no sì, sì, no, no sì, sì, no, no sì, tira un po' lì il canyon delle mondizze qua il compattatore se ne va tranquillo tranquillo il velox di così funziona, non funziona era andata talmente male in arnese adesso sì, no, 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 no no, no Fra un po' mi fermo, dopo aver cambiato idea una volta, la seconda, non sarà il caso. Il ragazzo va accelerando, bene. Dai, dai, gas! Non posso stare attaccato, dai! 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 Eccolo! Non posso stare attaccato, dai! Non posso stare attaccato! Non posso stare attaccato, dai! Non posso stare attaccato! Non posso stare attaccato, dai! Non posso stare attaccato! Non posso stare attaccato! Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Grazie a tutti. 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 Avevo letto un cartello da quell'altra area di servizio. Ma evidentemente ho preso un'ennesima cantonata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La tangenziale est è finita già da un pezzo. Questa era già autostrada. Ragazzi, ci vediamo poi. Grazie a tutti.